Buonasera, ci sono domande? Prego, in terza fila. Ciao mister, buonasera, complimenti per questa vittoria. Ti chiedo, il direttore Marotta prima della partita ha detto che non andremo ancora sul mercato a prendere altri giocatori. Dopo la partenza di Politano ti aspetti che invece possa ancora arrivare una punta o va bene così perché magari per l'utilità caratteristica Eriksen può fare anche un ruolo più offensivo? No, non può fare la punta Eriksen. Se devo dare un giudizio tecnico Eriksen non può fare la punta. Può fare a livello di centrocampo, può fare tutti i ruoli, ma la punta proprio non la può fare. Può fare il tre quarti sotto punta, ma non la punta. Quindi ho dato un giudizio tecnico. Cosa? Ma guarda, io non mi aspetto assolutamente niente. Io penso che le cose, noi abbiamo cercato di operare in maniera intelligente, in maniera funzionale al miglioramento di questa rosa. E penso che l'obiettivo sia stato centrato, visto Ashley Young, visto Moses, visto Eriksen. Per il resto, ripeto, è giusto che io ne parli, o che la società parli con me di alcune cose. Perché magari io posso anche dire, ok, va bene così, la società mi dice, no guarda, non siamo d'accordo. Quindi si cercherà di fare del nostro meglio, come abbiamo fatto fino adesso. Perché, ripeto, penso che abbiamo fatto un mercato molto funzionale. E' proprio per questo voglio anche ringraziare sia Matteo Politano che Valentino Lazzaro per la loro professionalità, per quello che hanno dimostrato in questi sei mesi. Perché sono stati veramente dei ragazzi che si sono messi a disposizione, con grande professionalità, grande educazione. Quindi Matteo l'abbiamo venduto, mentre Valentino è andato in presido. Però li volevo ringraziare perché era giusto ringraziarli. Altre domande? Prego. Ciao Antonio, buonasera. Volevo chiederti questo, come cambierà l'Inter, se cambierà, con l'innesto di Eriksen, anche a livello tattico stasera? Insomma, se visto quando è entrato in posizione un po' più, diciamo non era il classico 3-5-2 come è stato fin qui. Ma guarda, partiamo dal fatto che Eriksen si è allenato con noi ieri, solamente ieri. Quindi oggi l'ho catapultato in campo, ho fatto una cosa che di solito, cioè di solito io non l'ho mai fatta. Giocatori appena arrivati non gli ho mai fatto di giocare. Credo perché devono entrare dentro la nostra idea di calcio. Oggi per tantissime cose diciamo che abbiamo comunque improvvisato tante situazioni, visto che abbiamo giocato con un sistema di gioco nuovo, ho preparato solamente ieri, in virtù del fatto che arrivato al campo ho saputo dell'indisponibilità di Stefano Sensi e del problema di Borca. Quindi avevamo solamente due centrocampisti disponibili, erano Nicolo Barella e Mattias Vesino. Quindi voi non voi ho forzato la situazione, però è una situazione a divenire che magari ci potrà tornare utile con lo stesso Christian lì dietro, da tre quarti dietro le due punte. Però Eriksen è un giocatore che può giocare a centrocampo, può giocare in qualsiasi ruolo. Lo vedo da interno sinistro, lui si trova bene con la posizione, però anche se gioca a due, può giocare in uno dei due, può giocare dietro, sotto punta, dietro la punta. Un giocatore molto intelligente, vede il gioco, riesce a capire anche come posizionarsi. Detto questo, da domani inizierà a capire i movimenti che bisogna fare. Facciamo l'ultima? L'ultimo? L'ultimo, prego. Mister, tornando sui centrocampisti, quattro indisponibili, c'è un po' di preoccupazione, anziché tornare qualcuno si aggiunge. Oggi Barella verso il finale ha giocato davanti alla difesa, a volte nelle difficoltà si trovano anche delle soluzioni. C'era già quello spirito, quella leadership per giocare lì, Nicolò? Anche lui è un giocatore eclettico, nel senso che comunque nelle posizioni di centrocampo le può rivestire tutte e tre. Oggi ha fatto bene, nel momento in cui l'ho messo davanti alla difesa, ha schermato bene, riusciva a raddoppiare, riusciva anche a far ripartire l'azione nella giusta maniera. Nicolò è un giocatore che sta tornando ai livelli di performance che aveva avuto prima dell'infortunio. Lui, come Stefano Sensi, ha impagato. Stefano sta pagando ancora un pochettino. Lui però oggi ha fatto una bella partita, perché poi alla fine più giochi e più rientri in forma e torni ai tuoi livelli. Però Nicolò sicuramente ha fatto molto bene davanti alla difesa. È sicuramente una situazione che ci potrà tornare comodo in futuro. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, buonasera. Grazie.